Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono GivG e questo è Borderland 2. Adesso la nostra missione sarà arrivare a Sanctuary. Ecco. Ok, la nostra missione è arrivare a Sanctuary sani e salvi. E non credo che sarà una missione facile, però ci proviamo. No, ho sbagliato. Dai giù. Ok, dobbiamo procurarci un'auto. Le uniche cose che sono state fatte, oltre niente praticamente... Ah beh, sì, abbiamo battuto il boss della zona principale, ma è una sciocchezza praticamente. Non vi siete persi niente. Che era quello che ci ha dato poi la possibilità di venire qua con la barca che mi trovavo all'inizio. Ho fatto qualche missione secondaria, giusto per salire di livello. Difatti siamo al livello 8. Cosa vuoi tu? Corrire, eh? Corrire, eh? Su. Recuperiamo tutto. Aspetta, cos'era? No, siamo pieni. Via, via. Ok, adesso la macchina ci serve, così almeno riusciamo a toglierci il problema di girare solo a piedi. E poi dovremo saltare là. Per riuscire a raggiungere il santuari. Ecco qua. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Stai cercando di forzare il mio catcheride? Vale, fratello. Male. Dannazione. Accidenti. Questi catcheride sono controllati da un uomo di nome Scooter. Magari gli manca qualche cromosoma, ma è un genio quando si tratta di veicoli. Ha bloccato questa stazione per impedirne l'uso ai banditi, ma ho rilevato un robot a Iperion disattivo nell'accampamento Bloodshot. Se riesci a collegare l'adattatore di interfaccia al catcheride, posso forzarlo e procurarti un mezzo. Benvenuto. Va bene, vediamo solo questa che tanto non serve a niente. Anche quello. Questa ritiriamo. Sillo ai tuoi amici. Munizioni in marco. Va bene, dobbiamo entrare qua dentro e recuperarci il chip del robot. Fatemi dare uno sguardo dall'alto per essere sicuri. Ah, guardare raggiù. Proviamo col cecchino. Dove sei? Col cecchino. Col fucile di precisione, poi. Sarebbe più corretto. L'ho preso male. Voila, è andata. Chi è che va? Guarda, guarda sto stronzo. Andiamo all'attacco, basta. Avete sentito cosa ha detto? La frase di... Guarda, 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 guarda giù tutti fatto ok abbiamo colpito anche un paio di volte il robot va bene recuperiamo quello che ci serve che era in questa zona eccolo la fatemi recuperare un po' di munizioni prima che tutto serve ok è solo recuperare il recuperabile va bene è veramente comodo il robot però comincia ad essere appare un po' di evoluccio devo svilupparlo un po' allora inseriamo posto blocco revocato aspetta un momento mentre forzo il catch a ride eh grazie utente autorizzato accettato goditi il giro e troverai un pimento d'aco un pimentaco nel cruscotto fico prova a richiedere un'auto ok la voglio con i missili rugginosa genera va via ah vabbè adesso ci spiega come guidarla come quello non è proprio come dire intuitivo i comandi ma dopo un po' che ci si prende la mano non è difficile e andiamo la nostra missione è quella oh mostro dove sono ok via e abbiamo anche il klaxon a disposizione oh siamo arrivati va bene dov'è century guardiamo un attimo sulla mappa non ce lo segna ancora si qua su via si parte cos'era ah ho sbagliato io oh ma c'è qualcuno qua giù oh oh via 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 no C'è un po' dolgiro con tutta l'auto Facciamo i tagli Ma dai, mi trovano sempre un lavoro da fare Io volevo solo entrare Ecco vedi ma attaccano anche gli uccelli Va bene Allora ci vogliono mandare da qualche parte Qua giù Ok Andiamo a recuperare quello che vogliono Sesto tremore Ecco Basta, finitela Allora Dobbiamo trovare Ancora Alan Un attimo Fatemi cambiare arma Così, qui l'ha Ah, guarda l'ora Ho preso il lucro energetico dai bloodshot Ho fatto saltare i polti Ma hanno colpito Li seminerò ai marrofills Ok, l'abbiamo perso di nuovo Ah, e dove me l'avete messo adesso? Fatemi guardare Ok, in questa direzione Oh, può darsi Andiamo a vedere Non è la strada giusta Dai, ci volevano anche le bestiacce Basta L'ho congelato per un attimo Facciamo che ci spostiamo magari No, dove sono andato a finire? Ah No, sono caduto di sotto Va bene, andiamo Ah, è un brutto incidente Forse ho capito dove è andato a infilarsi Eh, basta Sto facendo Sto facendo Uno sterminio Va bene Dobbiamo andare a piedi No, ma tu mi sono incastrato in qualcosa Ah, vedo che ci stanno menando ben bene Cazzo l'ho visto Oh, ho esagerato Ah, ma quasi tu muovere No, buttino Dai Bravo robot Ammazzalo Ammazzalo Allora, ci ha dato giù una pistola da 30 No, fucile Pistola No, è meglio quella che abbiamo Eccoci qua Dov'è sto cosa? Eccolo qua Non lo riuscire Non pensavo di valere un tale salvataccio Uno di quegli psycho è scappato con il nucleo energetico Mi chiede sto nucleo Sentuary sarà in difesa Riporta quel nucleo a Sentuary Io mi faccio un pisolino Svegliami quando non sono più su Pandora Ok Eh sì, abbiamo posto fine Allora, ci volevo andare da qualche parte Qua sotto Va bene Ok, grazie Robottino Simpatico Allora Visto che sto robottino Ci ha rotto tre quarti di robottaggine Ah, guardali laggiù Allora Intanto diamo due colpi da cecchino Intanto per Per sbagliare Dai E' l'ora Oh, siete particolarmente robusti Oh, guarda qua Che culo Ce l'hanno portato Praticamente Ok Vedo che anche lui se la passa bene Allora Contatta il tenente Dei miei tenenti Un attimo Ah, dobbiamo uccidere ancora quella Non basta Non basta Ripetiamo subito Guarda sto stronzo Oh, queste bombe Oh, queste bombe Non devo essere Il mio soggetto Non avevo scolpio romatico Non avevo scolpio romatico Morto Ah, li vai proprio a cercare Ma è uno spettacolo sto robot Ne avevamo un po' di più Abbiamo arma Ok Dobbiamo uccidere Per forza sto cavolo di Princeton qualcosa No, i Bloodshot Che saranno qua? Adesso c'è sparito il robot Che palle, dai Questa 27 Ma guardiamo un attimo Cosa ci hanno dato Niente Ah, la bomba C'era una bomba 1, 2 Allora 7 2 secondi Proviamo a sostituirla Dai È un po' più potente Però adesso Non ci possiamo fare niente Guardami Quando ti sto Cosa Questa Non è una cosa Che fico Ma con chi ce l'hai? Dove sei Tutto quello che hai? Era qua Era qua Oh 17 Dai che ci siamo quasi Bravo Ho sentito che voce sveglia Sì 20 Oggi la resistenza Ha perso un uomo Va bene Andiamo a saltare Ok Nostra destinazione Santoro Contatta il tenente Davis Ma dove cavolo è adesso? Ci vuole fare andare prima Da qualche parte Ah no Qua Probabilmente sono Citofono Agli Suona il citofono Prima di Entrare Dai Dove l'ho lasciata La macchina? Di lì Sta veramente comodo La minimappa In angolo A destra In alto Ok Via Si va Ok Sentori Aspettami Che sto arrivando Dove Ah Senti che trema Di nuovo Tutto Ah Che stupidaggine Ancora Ho andato a prendere La sposta Come uno scemo Eh apriva Ok Siamo arrivati a Sentori Non è stato Difficile Ma neanche troppo semplice Non mi ricordo bene Perché l'ho fatto Con il commando Ma La memoria Si mescola Con altri videogiochi Ok Andiamo a mettere La nostra cella O a darla Senti quanto Chiacchera Questa Eh si Va bene Ok Ne abbiamo tolto uno Inseriamo Il prossimo Adesso funziona Di nuovo Lo scudo Benissimo E ci caga Anche un'arma Vediamo un po' Se è questa 95 Comodo Però è bassa Di danno Prendiamo questa Solo per varietà Ok Addirittura Sugli attenti Che onore Fate largo Ma ragazzi Provano a bombardare Meno male Ragazzi Ma che se Proprio Mamma mia Brutto Va bene Allerta E siamo arrivati Ho mai tornato Dalla missione Di ricognizione Segreta Ha lasciato Istruzioni Molto specifiche Per un caso Come questo E può esserci D'aiuto Seguirle Vada a parlare Con il meccanico Della città Merda Voglio dire Accidenti Roland ha bisogno Di aiuto Senza di te I Crimson Rider Non hanno possibilità Contro Jack Scopri dove Ha finito Roland Ok E ragazzi Ci fermiamo qua Siamo arrivati A Sanctuary La visitiamo La prossima volta Raccondiamo Le varie missioni Che ci daranno E poi Scegliamo Quale andare a fare Io sono Giv G Passo e chiudo